Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. Oggi ho un quiz per voi, tre domande dirette a cui dovete rispondere abbastanza rapidamente senza stare a fare troppi conti ma se volete, come sempre, potete mettere in pausa il video. La prima, oggi ricevete 100 euro. Li avete guadagnati, ve li hanno regalati, li avete rubati, non ci interessa la provenienza e supponiamo che il tasso di inflazione in Italia sia del 2%. Avete sicuramente sentito parlare in giro del tasso di inflazione sapete che in realtà è un po' più alto del 2% ma per semplicità poniamo che sia al 2%. Bene, fra un anno, con questi 100 euro che vi hanno dato oggi potrete comprare più cose, meno cose o esattamente la stessa quantità, le stesse cose che avreste potuto comprare oggi con quei 100 euro? La seconda, un vostro amico o una vostra amica vi chiede in prestito 25 euro voi li ridate, oggi, e domani lei o lui ritornano e vi portano 25 euro Qual è il tasso di interesse che vi hanno pagato? La terza Considerate di nuovo i 100 euro di prima e decidete di investirli in un fondo che vi rende il 2% annuo Ebbene, tra un anno, quanti soldi avrete in quel fondo? E quanti soldi avrete tra 5 anni? Supponendo che durante tutto il periodo dei 5 anni voi non abbiate mai ritirato alcun centesimo dal fondo in questione? Per le risposte dovrete aspettare la fine del video perché prima dobbiamo parlare di qualcosa di molto importante Dobbiamo parlare di soldi che è tra l'altro anche il titolo del video Il quiz che vi ho proposto, infatti, non è scelto a caso ma è un modo abbastanza semplice per stabilire quale sia il vostro grado di educazione finanziaria Avrete sicuramente sentito che da ricerche recenti il grado di educazione finanziaria in Italia è piuttosto scarso e si parla più propriamente di alfabetizzazione finanziaria come di quell'insieme di conoscenze e competenze che ci permettono di prendere decisioni efficaci in contesti finanziari ossia, banalmente, come decidiamo di spendere i nostri soldi E i soldi, lo sappiamo tutti, non faranno la felicità ma sicuramente è meglio piangere su una Rolls Royce che farlo su una corriera Battute a parte, parlare di soldi è un tema molto delicato perché attiva di una sfera molto personale e sentire altre persone darci consigli o criticare le nostre scelte in fatto di soldi ci può anche mettere a disagio Pensate solo al modo in cui guadagniamo i nostri soldi definisca il nostro ruolo nella società con il lavoro che facciamo o il modo in cui decidiamo di spendere questi soldi mostra al resto del mondo i nostri gusti e in definitiva la nostra personalità Ecco perché, con le dovute cautele voglio parlare di soldi ma più precisamente di educazione finanziaria su questo canale con una nuova serie di 10 video Parleremo di inflazione e di tassi di interesse di investimenti e di capitalizzazione composta di debito e bilancio dello Stato Ma Lorenzo, cosa stai a parlare di soldi a noi giovani italiani che di soldi ne abbiamo pochissimi che lavoro non lo troviamo o se lo troviamo ci viene pagato una miseria o che la nostra prospettiva più rosea è quella di andare in pensione a 100 anni e di non poterci mai permettere una casa al contrario invece dei nostri genitori E poi, tra l'altro, tu stai in Svizzera quindi cosa viene a fare la morale a noi? Sento già la critica, la comprendo pienamente e d'altra parte, per rispondere alla seconda è indubbio che anche la prospettiva economica abbia fatto la sua parte nella mia scelta di emigrare ma ci sono due obiezioni a questa critica la prima è che, specie se mi seguite da un po' saprete che mi offro io il mio canale su YouTube significa divulgare la cultura e la conoscenza e l'unico obiettivo che ho con questa mia serie di video è quella di sperare che possiate imparare qualcosa in più e poi decidiate voi che cosa fare con queste nuove conoscenze la seconda è che sia che ve ne siano tanti sia che ve ne siano pochi i soldi sono una risorsa una risorsa preziosa e per questo devono essere ben amministrati e non sprecati scegliere come disporne e imparare i meccanismi che regolano il funzionamento dell'economia e della finanza non è un qualcosa che ci riguarderà quando saremo ricchi ma è qualcosa che invece dovremmo imparare ed utilizzare giorno per giorno perché alla fine dei conti i soldi servono a realizzare degli obiettivi nulla di più, nulla di meno veniamo alle risposte se il tasso di inflazione è del 2% annuo significa che ogni anno il prezzo di un insieme standard di beni e servizi quello che viene chiamato paniere di cose cresce in media del 2% e quindi questo significa che se oggi potevamo comprare un insieme di cose il cui valore è di 100 euro tra un anno quell'insieme di cose costerà 102 euro e quindi con gli stessi 100 euro di oggi potrò comprare meno cose tra un anno il concetto di inflazione è cruciale per determinare le nostre scelte di spesa e quindi ne parleremo nell'episodio 3 per la seconda domanda se il vostro amico o la vostra amica vi riporta esattamente i 25 euro che gli avevate prestato il giorno prima beh, è evidente che il tasso di interesse è dello 0% siete dei buoni amici non avete applicato alcun tasso di interesse ma che cosa succederebbe se a chiedervi in prestito dei soldi fosse una persona a voi sconosciuta e di cui non potete fidarvi se ve li riderà o meno quale tasso di interesse dovreste applicare? di questo parleremo nell'episodio 7 infine, se il fondo vi offre il 2% annuo tra un anno, a partire dai 100 ne avrete 102 per sapere quanti soldi avrete tra 5 anni supponendo sempre che non ne abbiate mai ritirati durante tutto questo arco di tempo serve un piccolo calcolo con il concetto di capitalizzazione composta ne parleremo nell'episodio 8 ma per il momento vi basti sapere che avrete ben più di 110 euro un'ultima nota prima di salutarci questa serie di video non è sponsorizzata da nessuno ovviamente, anche perché se no ve l'avrei detto fin dall'inizio e il motivo per cui ho deciso di scriverla e di produrla è sia da un lato perché era da un sacco di tempo che non pubblicavo qualcosa sul mio canale ma sia dall'altro perché soprattutto credo fermamente nel valore della cultura e nel valore in questo caso dell'educazione finanziaria per il futuro del nostro paese il mio intento quindi non è quello di indirizzare le vostre scelte verso alcunché bensì rendervi più informati e per questo vorrei chiedervi di condividerla e di diffonderla il più possibile perché persone meglio informate sono cittadine e cittadini migliori spero che mi seguirete in questo viaggio noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti